Buon salve e bentornati su Nomamamazzo, io sono Batman. No, non è vero, sono sempre Ernie e oggi faremo un Toys and Unboxing un po' strano, nel senso che come avete notato dalle scatole, parlerò dell'uomo invisibile, no, come notate dalle scatole l'unboxing è già stato fatto. Perché è già stato fatto? Perché in realtà questi sono giocattoli della mia infanzia di cui questi quattro particolari personaggi ho recuperato di recente e di conseguenza sono stato da adulto conscientemente in grado di conservare la scatola togliendo il personaggio nel modo più delicato possibile. Li ho comunque tolti dalla scatola perché tutti gli altri giocattoli che sono riuscito a salvare da quando ero piccolo di questa serie Batman sono ovviamente senza scatole, quindi ho voluto dare un amalgamo. Poi ve li farò vedere in un video che magari metterò qui nel riquadro oppure faremo un pezzettino a parte. Allora, perché ho recuperato questi quattro personaggi in particolare? Perché dovete sapere, adesso vi dico un po' i cazzi miei, che quando ero piccolo mi sono fatto un piccolo accordo mentale con me stesso, nonché con mio padre che appunto era colui che comprava i giocattoli, per il quale nella mia collezione di questi giocattoli della serie di Batman, collezione che poi in realtà li usavo appunto per giocarci, mi ero prefissato di acquistare, in modo da risparmiare, solo i giocattoli, solo i personaggi che erano comparsi anche nelle versioni live action, quindi nei film. Quindi Joker, di cui tra l'altro avevo una versione vera, cioè avevo una versione proprio presa dai giocattoli del film di Tim Burton. Mi riferisco al Pinguino, mi riferisco a Catwoman, mi riferisco poi successivamente con i feed di Schumacher a due facce, all'Enigmista, anche lì avevo una versione proprio Jim Carrey del personaggio, quindi non una versione presa da Batman Animated Series. A me piaceva appunto collezionare i giocattoli della serie animata perché avevano un look classico che adoravo, e quindi non quelli del film perché avevano un look troppo kitsch, troppo... poi vi farò vedere magari dei confronti in altri unboxing. Quindi volevo appunto dare una certa omogeneità ai miei personaggi, comprandoli tutti dalla Animated Series, ma limitandomi a comprare quelli tratti dai film. Cosa succede? Che questi personaggi, quando ero piccolo, non avevano una controparte cinematografica. Li ho presi di recente perché di recente hanno iniziato ad avere la loro controparte cinematografica. Se notate, mi sto riferendo a Ra's al Ghul, che ha avuto, interpretato da Liam Neeson nel 2005 in Batman Begins, quindi ha avuto il suo attore che gli ha dato un ruolo nel primo episodio della saga del Cavaliero Oscuro di Nolan. Nel terzo episodio, sempre della saga del Cavaliero Oscuro di Nolan, abbiamo Bane, che era già stato portato in auge, diciamo, nel film del 97 di Joey Schumacher, ma all'epoca ero già a grandicello, mi stavo già un po' disappassionando, e francamente all'epoca ho già fatto fatica a trovare anche gli altri personaggi, tant'è che tuttora ad oggi io non ho Edera Velenosa. Anzi, se qualcuno volesse vendermi o regalarmi Edera Velenosa di Batman the Animated Series, ve ne sarò eternamente grato. Successivamente abbiamo Killer Croc e Harley Quinn. Perché li ho presi? Perché hanno avuto anche loro un film, ovvero Suicide Squad. Quindi direi che con questi due elementi ho completato la mia stramba collezione di action figure, di giocattoli, di Batman, di Animated Series, che hanno avuto una loro controparte cinematografica. Parliamo un attimino, velocemente, dei personaggi, e poi parliamo un attimino, sempre velocemente, della serie. Allora, partiamo con Killer Croc. Come potete notare, nella serie Batman the Animated Series, Killer Croc in realtà è grigio, tende al grigio, e così era anche il giocattolo. Però questa colorazione che vedete gliel'ho data io. Perché gliel'ho data io? Rovinando appunto il discorso collezionistico di questo giocattolo. Perché appunto, dato che devo amalgamare un attimino la mia collezione di quando ero piccolo, e quando ero piccolo i giocattoli che ho sono un attimino più pasticciati, ho voluto dare una personalizzazione anche a questo personaggio, di cui amavo molto la configurazione grigia nel cartone, ma che sul giocattolo non rendeva molto. Così ho cercato di dargli un aspetto più verdognolo. Questo pettorale così a quadratini ricorda un po' il Killer Croc della serie Arkham dei videogiochi. Ok, con tutti questi spuntoni gialli ricorda proprio un coccodrillo. Killer Croc in tutte le altre incarnazioni tende al verde, quindi da Suicide Squad, dove è quasi addirittura marroncino, alla seconda serie di Batman, che penso si chiamasse... Non so se è Batman Cavaliere della Notte o Le Nuove Avventure di Batman. Comunque per intendersi quello con Nightwing, quello dove Joker aveva un aspetto orrendo, con le pupille e gli occhi al contrario, fondamentalmente. Bianco su nero per intendersi. Già lì era un pochino verde. Ok, quindi ho voluto dargli questa colorazione per rendere omaggio un po' a tutte le incarnazioni di Killer Croc. Nella confezione c'è anche un coccodrillo, per così, per far vedere che lui vive nelle fogne di Gotham City con un coccodrillo, e l'action figure fa anche questa cosa. Cioè si dà da un... quello che si chiama un montante, ok? Un gancio, dipende dall'altezza. Però di base dà un pugno che dall'esterno va all'interno. Allora, dato che ho parlato di Killer Croc, restiamo su i personaggi di Suicide Squad, quindi Harley Quinn. Bellissima e longilinea, di cui tra l'altro farò un altro video di unboxing su una statua di Harley Quinn, che è in vendita, e la confronterò col giocattolo. È praticamente uguale, ok? È questo vestito diviso da arlecchino. Harley Quinn vuol dire appunto arlecchino, arlecchinata. E anche in questo caso la pistola era tutta nera, l'ho dipinta per ovvie ragioni, perché tutta nera faceva proprio schifo, ok? C'era anche, mi scuso, c'era anche un... una specie di guantone che a molla dava un pugno e ce l'ho, ma molto probabilmente col trasloco deve essere da qualche parte, ok? Quindi non posso farvi vedere una confezione completa, me ne scuso. Vi faccio vedere comunque il retro di queste scatole, dove ci sono anche gli altri personaggi. Vedete tutti i vari Batman. Calcolate che questo, che è il Batman originale, diciamo con la tutina grigia, in scatolato vale sulle 60 euro, forse anche di più. C'è ecco la famosa edera velenosa che a me manca. Questo è il fantasma del film Batman, la maschera del fantasma. Film fantastico che vi consiglio di vedere, magari un giorno facciamo una recensione. Questo è l'Uomo d'Argilla. L'unico personaggio che non ha mai avuto un'incarnazione cinematografica di cui ho l'action figure perché adoro il design di questo personaggio in questa serie. È fantastico. Allora, ritorniamo ai nostri amati personaggi. Andiamo su Inolan personaggi, quindi parliamo del grossissimo Bane. Vi faccio vedere una cosa particolare. Addirittura hanno fatto Bane più alto, ecco da qui non si vede ma ve lo faccio vedere, più alto di Killer Croc. Quando comunque anche Killer Croc è un bestione. ma in questa versione di giocattoli Bane è persino più alto di Killer Croc e più alto anche dell'Uomo d'Argilla che comunque, vabbè, modifica la sua forma, il suo aspetto. Quindi quello non è un grosso problema, però è davvero una bestia. Ha delle braccia che... Ok? Anche qui c'è un piccolo movimento. Lui fa così, ok? Alza le braccia, alto là al sudore e tu senti le sue ascelle. Poi gli tocchi un punto dietro, ok? Un punto probabilmente la prostata e lui fa così. Perché fa così? Ok, così. Perché scaglierebbe via questo... questo paraurti di un'auto che ho lasciato saggiamente all'interno perché francamente è un accessorio di... di cui non mi frega nulla, ma non mi fregava nulla probabilmente neanche a dieci anni quando avrei comprato questo giocattolo qui. A me piaceva avere il personaggio nudo e crudo. qua abbiamo l'iniezione del Venom che qui è fissata, ok? Se acquistate magari il giocattolo usato può essere che qui sia rotto e qua invece si aggancia al polso. Ha la sua... come si dice? La sua trasposizione classica cioè quella di un luciador, quella di un lottatore di wrestling sudamericano, ok? Quindi non ha l'aspetto che ha nel film per ovvie ragioni perché nel film gli hanno voluto dare un aspetto che altrimenti sarebbe stato ridicolo in un film di Nolan avere un aspetto del genere perché Bane ha questo... visivamente questo aspetto che è richiamato di più nel film del 97 di Joel Schumacher ma ha tutte le caratteristiche mentali del Bane, di Nolan e unire le due cose in un film di Nolan sarebbe stato un po' ridicolo quindi gli hanno dato un aspetto più militaresco fondamentalmente anche se mi sarebbe piaciuto vedere una maschera da Lucia Dores anche se non chiaramente identica perché avrebbe tolto l'espressività all'attore a Tom Hardy abbiamo la fantastica Harley Quinn no, l'ho già detta però scusate stavo pensando a Margot Robbie ma a Margot Robbie mi sono distratto e infine abbiamo Ra's al Ghul nella sua nella sua metto a fuoco se bruciasse la città mettiamolo a fuoco come lui metterebbe a fuoco Gotham non si mette a fuoco ok Ra's al Ghul nel suo aspetto più classico cioè con quel pizzetto da da cattivo orientale c'è una cosa che non ha e che nella serie animata aveva ed era fantastica trasmetteva tantissimo mi dava inquietudine da bambino questa questo aspetto nel cartone cioè gli occhi azzurro ghiaccio qua il personaggio non ce li ha e io non sono così bravo da dipingere da ridipingere gli occhi senza fare un pasticcio quindi ho voluto lasciare stare mi sono limitato anche qui a ridipingere quello che sarebbe stato una armatura gialla infatti notate qui vediamo Ra's al Ghul nella sua armatura da testa del demone Ra's al Ghul significa testa del demone ok avrebbe avuto questo aspetto più ottone anzi questi hanno un aspetto d'ottone qui era proprio giallo come vedete e allora ho deciso di dipingerlo d'oro non ci ho dato una grande passione onestamente come potete ammirare però quando avrò tempo vorrò imparare a dipingere realmente i giocattoli vi lascio magari anche dei link delle pagine instagram di due artiste che ridipingono le action figure le fanno sembrare reali e sono davvero fantastiche una è Jamie the Painter e l'altra è Oroku Karai andatela a cercare su instagram fanno delle fotografie spettacolari con i personaggi allora bene ho parlato di tutti questi personaggi siamo già a dieci minuti non mi prolungo di più rubo un attimo ancora qualche minuto per parlare della serie Batman the Animated Series è una serie tv del 92 con la maggior parte degli episodi scritti da Paul Dini che è uno sceneggiatore fantastico che ha portato in auge anche molti episodi della serie animata The Real Ghostbusters questa serie è ambientata diciamo più o meno dopo il secondo film di Tim Burton quindi dopo il film con il pinguino e Catwoman fondamentalmente proprio per questo vediamo che le origini di Catwoman e del pinguino non sono narrate probabilmente perché appunto si vuole collegare in un certo senso al film le origini del Joker non sono narrate anche se sappiamo che le origini del Joker sono comunque misteriose sono narrate le origini di tutti gli altri personaggi anche quelli che poi ci saranno nei film successivi quindi quelle di Schumacher vediamo le origini di Due Facce le origini dell'enigmista vediamo le origini di Mr. Freeze che non solo le vediamo ma le origini di Mr. Freeze così come le conosciamo adesso nascono da questo cartone animato perché prima non erano assolutamente così profonde era una macchietta Mr. Freeze qui assume una profondità che è stata utilizzata anche nel film di Schumacher e in tutte le incarnazioni successive anche nei videogiochi della serie Arkham quindi il suo amore per la moglie Nora congelata per bloccare la malattia che la stava uccidendo è tutto frutto di questa serie animata così come questo fantastico personaggio gnocchissimo è un personaggio originale nato da questa serie ed ha avuto così tanto successo che poi è entrata a far parte nei fumetti ufficiali di Batman addirittura è entrata a far parte nella Suicide Squad da adesso è quasi una villain non villain però vi ricordo che Harley Quinn è la fidanzata del Joker fidanzata nel senso diciamo un po' non tanto bello del termine perché il Joker come sapete è uno psicopatico sociopatico manipolatore e lei non è altro che una sua ex psicologa che è stata totalmente soggiogata quindi è succube di quello che è il suo fidanzato come purtroppo è un aspetto neanche troppo fantasioso della realtà di molte coppie sentiamo sul giornale tutti i giorni sul telegiornale tutti i giorni di coppie di donne sfigurate di donne uccise di donne maltrattate dai propri uomini che non denunciano magari denunciano ma la polizia non fa niente comunque che sono anche soggiocate psicologicamente da questo amore malato per il proprio compagno Harley Quinn se dovessero fare una bandiera per tutte queste donne che però sfortunatamente non se ne rendono conto finché non è troppo tardi se dovessero fare una bandiera di tutte queste donne sulla bandiera ci sarebbe la faccia di Harley Quinn almeno della prima incarnazione di Harley Quinn che poi con gli anni si è diciamo un po' evoluta finalmente ha mandato a cagare il Joker e quindi è un attimino un personaggio un po' più indipendente però è un personaggio davvero interessante e questo aspetto è nato da una serie a cartoni animati una serie a cartoni animati degli anni 90 che tutt'oggi è godibilissima se voi oggi da adulti guardate di nuovo Batman The Animated Series è una serie tv fantastica non è assolutamente invecchiata male quindi ve la consiglio di guardarla recuperatela in qualunque modo se riesco a mandarvi un link di Amazon ve lo mando oppure cercatela in tutti i modi perché davvero merita tantissimo con questo è tutto vi saluto vi dico già che farò un prossimo video su tutte le altre action figure di Batman che ho anche se non ho la scatola quindi sarà più toys che unboxing e parleremo ancora magari di questa fantastica serie animata così nel frattempo se volete farmi delle domande scrivetele qui sotto nei commenti che risponderò nel prossimo video ovviamente iscrivetevi e attivate la campanella delle notifiche così saprete quando uscirà il prossimo video ciao ciao e amatevi sempre 3000